Non pensavo che sarei riuscita a sopravvivere un solo giorno senza parlare con lui. Sono stata io lasciarlo. Ma mi fa star male da morire che lui non abbia neppure provato a cercarmi. Era la sua occasione di dimostrarmi i sentimenti che prova per me. Evidentemente me li sta dimostrando, ma so anche che se mi amasse quanto pensavo, ormai me ne avrebbe dato prova. Ha detto che non si sarebbe arreso, invece lo ha fatto. Ha rinunciato a me. Per tutta la prima settimana mi sono sentita persa, senza di lui, senza i suoi commenti vulgari, senza la sua sicurezza. Voglio essere forte, che io sia sola o no, anche se inizio a sospettare che resterò sola per sempre. Non volevo che finisse tutto così di corpo. Volevo che mi rispondesse al telefono e che trovassimo un compromesso. Avevo solo bisogno di spazio, di allontanarmi da lui per un po'. Forse era proprio questo il suo piano, farsi lasciare.